Cosa si nasconde dietro le mura di Kensington Palace? Oggi solleviamo il velo su uno dei misteri più affascinanti e dibattuti dell'alta società britannica, la scomparsa di Kate Middleton. Resta con noi per scoprire gli intricati labirinti di teorie, voci e smentite che avvolgono la duchessa di Cambridge. Iscriviti ora ad Onda Virale e attiva la campanella delle notifiche per essere sempre al passo con le nostre notizie. Apriamo con un dossier scottante che tiene in ansia il globo. Che fine ha fatto Kate Middleton? La duchessa di Cambridge sembra essere scomparsa dai radar e le teorie sul suo destino si moltiplicano in una ragnatela di gossip che nemmeno il Palazzo Reale riesce a contenere. Da due mesi, il silenzio intorno alla figura di Kate è assordante. Il comunicato ufficiale del 17 gennaio parla di un intervento di chirurgia addominale, ma la sete di risposte del pubblico è lungi dall'essere saziata. L'ultima trovata di Kensington Palace. Un tentativo maldestro di placare le voci, rivolgendosi direttamente a page six. Ma le parole si perdono nel vento quando la realtà sembra nascondere ben altro. E come se non bastasse, l'assenza di William a un evento di rilievo aggiunge benzina sul fuoco del mistero. La domanda che tutti si pongono è semplice. Kate sta davvero bene? La ripetizione ossessiva di questa frase ha ormai l'effetto contrario, alimentando dubbi e speculazioni. Nel tentativo di distogliere l'attenzione da questa saga familiare, William si è recentemente mostrato in pubblico, esprimendo solidarietà e impegno in cause di rilievo sociale. Tuttavia, l'assenza di Kate è un vuoto che risuona più forte di qualsiasi dichiarazione. La stampa britannica si trova in bilico tra il rispetto per la privacy della famiglia reale e la pressione per svelare la verità dietro questo prolungato silenzio. E mentre i tabloid si scatenano, una domanda rimane senza risposta. La monarchia britannica è davvero pronta a fronteggiare questa tempesta senza precedenti? Cosa ne pensi di tutto questo mistero che circonda Kate Middleton? Hai teorie personali o informazioni che potrebbero gettare luce sulla situazione? Condividi i tuoi pensieri e le tue opinioni nei commenti qui sotto. E mi raccomando non dimenticare di lasciare il tuo like al video se i nostri contenuti ti affascinano. Resta sintonizzato sul nostro canale per tutti gli aggiornamenti su questa storia affascinante e misteriosa. Perché una cosa è certa. In un modo o nell'altro, la verità verrà a galla. E noi saremo qui per raccontartela, con tutti i dettagli piccanti e le ultime indiscrezioni. Grazie per essere stato con noi oggi. Ti aspettiamo al prossimo video!